Avevo delle enormi aspettative su questa macchina perché sapete che ho fatto tanti video sulla versione ZS dell'MG ragazzi che era una macchina che aveva un ottimo rapporto qualità prezzo però devo dirvi la verità che questa non è sicuramente all'altezza della sorellina minore comunque per vederla come nessuno ve la fa vedere guardatevi tutto il video ed eccola qua ragazzi ve l'avevo promessa MG HS diciamo che posso permettermi di paragonare questa macchina a una Nissan Qashqai questa in questa versione è che è una luxury 1500 turbo 162 cavalli costa oltre 28.000 euro 28.000 euro comprate il Qashqai base perché se lo volete accessorietto come questa come minimo dovete spendere 33.000 euro e non sto esagerando andate a controllare il listino però devo dire che 28.000 euro ricca di optional però ripeto c'è qualcosa che il motore forse non è all'altezza di questa macchina andiamo a vederla insieme il frontale è molto simile alla sorella minore però guardate qua c'è il radar dell'anticollisione perché la macchina ha il sistema ADAS fari a led guardate vedete che c'è scritto qua che c'è scritto Saic Like Technology perché la Saic Motors è la proprietaria del marchio MG faripendi nebbia sensori di parcheggio anteriori naturalmente tante cromature che devo dire la verità ragazzi ci stanno bene su questa macchina e sapete che anche le linee sono molto regolari è allineata bene cerchi in lega guardate diamantati bicolore sono da 18 pollici e sono anteriori e posteriori i freni a disco tante cromature alle telecamere 360 gradi e anche qua una piccola pecca perché su questa macchina la qualità delle telecamere la potevano fare leggermente migliore però tanto dopo ve le faccio vedere i vetri sono fumè vedete che sono oscurati sono i vetri privacy naturalmente la chiave nella versione luxury è una chiave comfort quindi è una chiave senza lama così tappo che cela il tappino per il rifornimento del carburante anche i fanali posteriori sono totalmente a led alla retrocamera posteriore naturalmente e i sensori di parcheggio ragazzi è una cosa che va controcorrente rispetto a tutti gli altri veicoli che vedete che questa macchina ha gli scarichi veramente fuori in vista al contrario di tutte le nuove macchine che stiamo vedendo che hanno gli scarichi finti e lo scarico è puntato verso il basso adesso sicuramente qualcuno dirà no guarda che sono puntati sul basso solo quelli dei diesel ma non è vero perché ho tanti tiro che tante altre mg zs che hanno lo scarico finto qua e gli altri sono puntati verso il basso invece vedete ragazzi questi sono scarichi vedi vi faccio vedere la macchina da sotto com'è naturalmente questo è il tappo che cela il gancio per il tappo del gancio traino terzo strop vetri scuri ragazzi andiamo ad aprirla tramite un piccolo pulsantino che c'è qua sotto vedete che le luci sono a led anche quelle della targa vano porta bagagli abbastanza capiente ha tante cromature questa macchina guardate il classico kit gonfia e non serve a nulla e ripara tanto polistirolo e tanti cavi in vista nonostante questo vano vedete queste cose si potevano naturalmente migliorare su una versione di questo tipo che non costa pochissimo perché siamo quasi a 30.000 euro lucettina sempre a led velettina per il vano posteriore ragazzi i sedili si possono ribaltare in due modalità ossia c'è questo spazio oppure li porto indietro e recuperiamo leggermente un po' di spazio per lo schienale però naturalmente gli assemblaggi sono identici a quelli della sorella minore anche le plastiche solo la pelle dei sedili è leggermente diversa su questa versione ragazzi è superiore cromature vedete un po' dappertutto e la linea devo dire che non è affatto male ricordatevi che posso chiudere e aprire la macchina direttamente tramite questo tasto perché vedete io adesso l'ho chiusa ho la chiave nella tasca all'apertura e alla chiusura comfort quindi va a chiudere gli specchietti retrovisori e se io arrivato a cliccare la macchina si riapre senza bisogno che io vada a schiacciare col telecomando ed è una cosa ragazzi molto molto comoda cromature sui pannelli questo non so se sia vera pelle o meno però penso che i sedili siano veramente in pelle e sono veramente molto 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 comodi e anche guardate la linea com'è sono sportivissimi sono avvolgenti e ci guidi bene ci stai bene ci puoi viaggiare questa macchina ragazzi è del 2023 e auto 1000 km è una macchina demo ed è una macchina nuovissima le cromature non mancano naturalmente è tutto plastica queste sono i tasti per le aperture e le chiusure questo vedete che è il segnale di prossimità quando ci abbiamo una macchina molto vicino e ci sta passando di lato questo si illumina cromature sulla cassa ragazzi è questa lo stesso è una finta pelle non è vera pelle cromaturine ovunque tasti per la regolazione degli specchietti retrovisori con la possibilità di abbatterli e bloccare i vetri posteriori tutte queste macchine ce li hanno date cioè li hanno date a chi li ha comprate con questi tappeti in gomma però escono anche con i tappeti originali che hanno il logo mg e anche la scritta hs vedete che qua c'è la scritta sul montante della porta e anche sul posteriore guardate lo spazio che c'è in questa macchina è veramente tantissimo e la cura nei dettagli ragazzi la vedete in tante cose tipo i sedili con queste tasche che sono rigide hanno sì degli elastici però cioè si rovinano molto meno di quelle che hanno quelle tasche in stoffa che non servono una cipolla questa specie di feritoia con la cromatura e guardate una chicca cioè la luce posteriore ce l'ha qua nelle manigliette e tutta la macchina ha le manigliette ragazzi a parte il lato guida vedete perché questa macchina nasce con tutto il tetto in vetro naturalmente dopo andremo a chiudere la veletta devo dire che era veramente una cosa molto molto luxury bocchettine posteriori che in queste macchine ci stanno se voi acquistate un Qashqai dello stesso prezzo non ce li trovate e due porte per ricaricare il telefono naturalmente i pannelli sono identici a quelli anteriori la stessa qualità finiture cioè le vedete qua anche le guarnizioni sono ben assemblate naturalmente dopo ci facciamo un giro vi dico anche altre piccole pecche volante identico a quello della sorella minore i sedili sono tutti regolabili elettricamente sia lo schienale che l'andare avanti e indietro con il sedile naturalmente cambio manuale 6 marce cruise control con line assist che posso disattivare da qua vedete qua c'è la levetta del cruise control che posso attivare e disattivare le bocchettine le posso aprire e chiudere tramite questa rotellina ragazzi guardate qua c'è la bocchetta dell'aria perché mi deve quando mi devo sbrinare i vetri scendenti anteriori alettina parasole con questa piccola luce a led tutti i comandi del tetto apribile sono qua adesso vado ad accendere ragazzi questa macchina essendo manuale se non schiaccio la frizione non si accende vado qua motore molto molto silenzioso il display è totalmente digitale l'infotainment totalmente digitale però con una cosa buonissima ragazzi i tasti fisici sia dell'aria vedete che del menu dell'auto e i volumi dell'autorario naturalmente android auto apple carplay ok a tutto queste sono tutte vedete assistenza al conducente è molto intuitivo ed è molto sensibile adesso io non lo sto centrando perché sto tenendo in mano il telefono per fare le riprese le cromature sulle bocchette sono ovunque è tutto ben curato non so se questa sia a pelle vera però sicuramente quella dei sedili sì è morbidissima quindi non scricchilerà tantissimo negli anni l'apertura del vano è controllata e ha una piccola luce ragazzi guardate non è capientissimo perché è un po' piccolino vano con due porte per caricare ragazzi presa 12 volt e anche questo anche se può sembrare metallo non è metallo ma è plastica però l'effetto è molto metallico il volante è uguale a quello della mg zs è praticamente identico così come tutti i controlli vedete la macchina ci dice la carica della batteria la luminosità del display qua ci sono gli avvisi ma in questo caso la macchina non ne ha avvisi e lo potete far scorrere da qua naturalmente levettina per i lavavetri triangolino per le frecce d'emergenza messo in un posto molto molto buono start and stop che posso attivare e disattivare tramite questo tasto vedete che il cambio ha sei marce e la retromarcia la metto andando a schiacciare giù e fare questo movimento adesso si sono attivate le camere vedete che quella una delle pecche grandi di questa macchina è che la qualità non è bellissima fa schifo praticamente per quello che costa la macchina a mio avviso potevano mettere delle telecamere migliori però sorvoliamo è un diciamo che è un dettaglio su cui possiamo sorvolare il holding freno a mano elettrico freno a mano automatico piccolo vano dove ci sono due portabicchieri e un portachiavi ragazzi bracciolo che scorre si apre ed è anche refrigerato vedete che dentro c'è il logo del cristallo di neve posso attivare disabilitare ossia apro e chiudo e lui diventa refrigerato o meno le cinture sono regolabili in altezza e come vedete adesso il tetto è aperto posso tramite questi tasti con questo tastino vado a chiudere la veletta e con questo tastino vado a aprire e chiudere il tetto in questo caso vedete io ho aperto il tetto che si apre solo da una parte e posso poi richiudere e richiudere tutta la veletta io adesso vado a richiudere tutto e che è anche abbastanza veloce e naturalmente così ho più protezione dai raggi solari è molto accogliente l'abitacolo ragazzi ripeto gli interni sono molto sportivi naturalmente la macchina non costa poco quindi c'è poco da fare si doveva curare un po' di più degli altri MG vedete anche i particolari del tre tipi di cuciture una, due e tre tutte qua nelle porte si vede che è una macchina che è stata curata ma adesso ragazzi andiamo innanzitutto a vedere c'è un piccolo vanno porto oggetti qua la regolazione dell'altezza dei fari che va fatta tramite questa rotellina il cofano anteriore si apre tramite questa leva e vedete adesso io ho la macchina accesa e la macchina mi avvisa che il veicolo attenzione il veicolo è ancora in movimento spegnere prima di lasciarlo naturalmente vi faccio vedere il vano motore vado a spegnere il veicolo e prima di vedere il vano motore vi volevo far vedere come aprire naturalmente il vano per andare a mettere carburante vedete che si clicca semplicemente e vedete non c'è nulla c'è solo una valvola di ritegno naturalmente la macchina è a benzina vedete c'è scritto e così vai a richiudere ma adesso andiamo a vedere il vano motore di questo 1500 turbo guardate io ho solo tirato la leva e una cosa che mi piace molto è che vedo subito il comando per aprire il cofano qua vado a cliccarlo e la cosa che mi colpisce è che questa macchina ha già vedete i pistoncini su entrambi i lati vedo che c'è dell'intalaiatura in metallo che è una cosa molto molto buona sia da una parte che dall'altra batteria di dimensioni notevoli perché questa macchina è un 1500 fusibiliera qua ci vado a mettere l'acqua per i lavavetri ragazzi liquido refrigerante e questo è il motore 1500 benzina filtro dell'aria naturalmente vedete che la macchina a parte queste spinette in plastica è tutta con dadi in metallo quindi non vedo plastiche non vedo le solite non so se avete presente le solite gomma piume qua che ci sono che quando vai a chiudere il cofano si rovinano perché questa macchina ha tutti impressi in plastica rigida naturalmente vedete che se io riesco a vedere sotto questa macchina è senza la paratia sotto motore però c'è tanto spazio per lavorarci guardate adesso questa è sicuramente una placca che si può levare però si leva solo con i bulloni vedete uno e due questo motore è un motore a catena non alla cinghia di distribuzione alla catena di distribuzione ragazzi come sempre mi incinturo e adesso vi dico la mia su questa macchina in guida sto per partire e il display mi dice attenzione ruota lineate ossia perché io ho girato lo sterzo per uscire dal parcheggio ed ha tanti tanti piccoli pregi che sono tutti questi piccoli segnali che magari a un neofita servono però magari a chi guida auto da tanto tempo non se ne fa una cipolla comunque ho notato che lo sterzo non è precisissimo e si sentono anche parecchio le buche ma la cosa principale è che io non sento questi 162 cavalli perché a parte che la macchina sviluppa solo superati i 3000 giri però non sembra una macchina con 162 cavalli ho provato benzina con 120 cavalli che sviluppano di più e un altro tasto dolente è che questa macchina ragazzi consumicchia ho notato che ho superato all'incirca gli 8 litri per 100 km ossia ho fatto 8,2 litri per 100 km e non è poco specialmente perché questa macchina è un turbo quindi il motore dovrebbe essere abbastanza sciolto da farla camminare benissimo e invece la sento un po' fiacca e il consumo è altissimo si può tralasciare se cerchi un'auto che a parte cioè essere veramente molto confortevole per viaggiare per viaggiare anche in 5 perché ci viaggi carichi tranquillo però si sente e un'altra cosa si sente molto il rumore della turbina e non si sente solo in questa l'ho sentito in tante altre HS il rumore della turbina sicuramente ha una tipologia di turbina che diciamo che suona tra virgolette per il resto è una macchina buonissima ripeto ragazzi per il prezzo con cui si vende cioè non comprate come vi ho detto secondo me questa la puoi paragonare al Qashqai però tu non compri un Qashqai con 28.000 euro compri il bus il 1.2 benzina non compri questo che alla fine 1.5 turbo totalmente accessoriato così poi 7 anni di garanzia 150.000 km naturalmente si fanno i tagliandi ogni anno ragazzi su queste macchine fate i tagliandi ogni anno non aspettate 20.000 km 25.000 fateli ogni anno così siete sicuri che qualsiasi guasto rientri in garanzia nonostante questo la frenata è buona è abbastanza insonorizzata a parte il suono il simbolo della turbina che se poi devi metterti ad ascoltarlo io adesso lo sento ha un sistema di display multimediale che ti dice veramente tutto è molto completo che dire preferirei la sorellina minore perché quando ho fatto i video sulla ZS aveva un rapporto qualità prezzo eccellente adesso stanno salendo di prezzo tantissimo anche le ZS comunque a parte questi piccoli dettagli tra virgolette è un'auto che comprerei sinceramente ragazzi come al solito tutto quello che vi dico sono naturalmente delle opinioni personali perché io non sono un giornalista non vi devo vendere questa macchina però ne guido tantissime quindi posso dire la mia su tutte le macchine che provo come al solito se il video vi è piaciuto mettete un mi piace se volete potete iscrivervi al canale carico talmente tantissimi video tutti i giorni quindi continuate a seguirvi se siete già iscritti ciao e alla prossima ciao